Inizia concentrandoti sul tuo respiro. Lascia che diventi piacevole, profondo e regolare. Questa è la strada per entrare dentro di te. Chiudi gli occhi e ogni respiro permette a te stesso di andare sempre più in profondità. Sempre più. In uno stato di rilassamento. Dove ti sentirai sereno e tranquillo. Questo stato è estremamente salutare per la tua mente e per il tuo corpo. Rilassati, scendi in profondità. Senti la pace. Ad ogni respiro ti rilassi sempre più. Sei sempre più rilassato, tranquillo e calmo. Rilassa tutti i tuoi muscoli del corpo, partendo dal viso. Senti la macella. Senti rilassarsi i muscoli del collo, delle spalle. e rilassati completamente. Rilassa i muscoli della schiena, sia la parte alta che la parte lombare. Rilassa le braccia e i muscoli dello stomaco, in modo che il tuo respiro rimanga profondo e regolare. Sempre rilassato e sereno. Infine rilassa i muscoli delle gambe, rilassando completamente tutto il tuo corpo, andando sempre più in profondità. Ti sentirai sempre più leggero, in uno stato sereno e meraviglioso. Il tuo respiro rimane tranquillo, profondo e calmo. Tutti i tuoi muscoli sono rilassati e riesci a sentire la calma. Permetti a te stesso di andare ancora più giù, sempre più in profondità. Ora visualizza una luce meravigliosa, che penetra dentro di te, attraverso la sommità del capo. E inizia a diffondersi in tutto il tuo corpo, dall'alto al basso. E' una luce meravigliosa e potente, rigenerante. Sei tu a scegliere il suo colore. Questa luce è connessa a te. Questa luce è connessa a te. Riportando tutte le cellule ad uno stato di salute normale. eliminando ogni malessere, ogni disagio e ripristinando la salute perfetta. questa è una luce di approfondimento, perché ti porterà ad un livello profondo di pace e di rilassamento. ora permette a te stesso di andare ancora di più in profondità. ancora più giù. la luce ora si diffonde verso il basso. e riempie tutte le cellule. le cellule dei tuoi tessuti, dal volto alla parte posteriore del capo, fluisce delicatamente nel collo, portando sollievo e rilassando i muscoli del collo e del midollo spinale. e poi la gola e le mucose della gola, mentre tu ti rilassi sempre di più. poi la luce scorre nelle tue spalle e giù lungo le braccia, guarendo e rilassando ogni muscolo, ogni nervo, ogni fibra e cellula del tuo corpo. e arriva fino alle mani, mentre tu vai ancora più in profondità. ti senti sempre più rilassato. mentre scorre questa luce fino al tuo cuore, e rilassi la meravigliosa energia che hai accumulato nel tuo cuore. guarendo il tuo cuore, riempiendo i polmoni che ora brillano meravigliosamente nella luce, e tu vai ancora più giù. ora ti senti completamente in pace, rilassato, sempre più giù ad ogni respiro. ora la luce scorre sulla tua schiena. la luce guarisce e rilassa i muscoli e i nervi, della tua schiena e di tutti i muscoli. attorno e scorre nello stomaco e nell'addome, riempiendo tutti gli organi addominali e guarendoli e rilassando i fianchi, scende verso le gambe, e questa meravigliosa luce rigenerante, lenitiva, profonda, arriva fino ai piedi. questa luce riempie tutto il tuo corpo, e tu ti senti meravigliosamente in pace, rilassato, sereno e calmo. lasciati andare ancora più in profondità. puoi concentrarti sulla mia voce, ma lascia che gli altri rumori, i pensieri e le distrazioni varie si dissolvano, permettendoti di arrivare ad un livello ancora più profondo. ora visualizza e immagina la luce che circonda completamente il tuo corpo, anche all'esterno, come se fossi avvolto in un alone o in una bolla di luce che ti protegge. non può passare nessun disagio attraverso la luce, solo il bene e la luce guarisce la pelle e i muscoli superficiali, e porta il tuo livello ancora più in profondità. tra qualche istante conterò a ritroso da 10 a 1. a ogni numero lasciati andare ancora più giù, così in profondità che quando dirò 1, la tua mente non sarà più limitata dalle consuete barriere dello spazio e del tempo. 10 9 8 e ad ogni numero vai sempre più in profondità 7 7 6 5 5 vai sempre più in profondità ancora più giù 4 3 sei molto più in profondità in una pace assoluta, completamente calmo e rilassato. 2 ci sei quasi 1 bene in questo meraviglioso stato rilassato e sereno immagina visualizza te stesso mentre scendi lungo una bellissima scalinata 5 giù 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 sempre più in basso scendi giù giù e a ogni gradino che scendi il tuo livello diventa sempre più profondo e quando arrivi in fondo alle scale davanti a te vedi un meraviglioso giardino è un giardino pieno di fiori, piante, con delle panchine, luoghi dove riposare, è un posto bellissimo, ti senti al sicuro e sereno. Ora entri in questo giardino e visualizzi te stesso in questo giardino dove il tuo corpo può riposare completamente e continuare a guarire grazie alla luce meravigliosa mentre tu vai sempre più in profondità il tuo corpo si ristora, si rinnova e ringiovanisce migliora continuando a guarire ricco di un'energia meravigliosa e più tardi quando ti risveglierai ti sentirai benissimo pieno di questa energia meravigliosa ti sentirai rinvigorito, rinnovato e avrai il controllo completo di corpo e mente in questo giardino Abbandonati a questo benessere, a questa salute perfetta che continuerai ad avere anche dopo esserti ripreso da questa meditazione. Nel giardino puoi riposarti, puoi recuperare le forze, lascia che il tuo corpo guarisca completamente e si ricarichi mentre si rigenera con un'energia meravigliosa. Ti senti completamente in pace, rilassato, senza paura e senza preoccupazioni. Non devi andare in nessun posto, non c'è nulla che ti metta fretta, non c'è nulla che ti possa disturbare, solo pace, relax e serenità. Senti la pace, entra in profondità quanto vuoi in questo stato meraviglioso. Lascia che la guarigione si completi, lascia che il rilassamento prosegua mentre tu rimani ancora per un po' in questo stato profondo. rimani ancora per un po' nella pace completa. rimani ancora per un po' in questo stato. Lascia andare tutti i tuoi pensieri negativi e le emozioni negative, lascia andare la paura. Non ne hai bisogno, non c'è nulla di cui aver paura. In questo stato nulla ti può portare disagio. Lascia andare la rabbia, la frustrazione. ti sono solo di ostacolo. Lascia andare la preoccupazione, la tensione, l'ansia. Invece senti solo emozioni positive perché sono queste che costituiscono il tuo vero sé interiore. senti pace e amore, armonia e gioia, beatitudine. senti la pace e la saggezza, l'amore, la gioia. lascia andare tutta la paura e senti l'amore. mentre fai questo ti sentirai sempre meglio. leggero, fiducioso. leggero, fiducioso. lasciando andare tutta la paura, la tristezza e la tensione. ora la guarigione si sta completando e tu ti senti già meglio. interiormente ti senti molto più calmo e tranquillo, più fiducioso e gioioso. lascia andare tutti i tuoi disagi. ben presto arriverà il tempo di tornare nel giardino e risvegliarti da questa meditazione bellissima. è giunto il momento di risvegliarti. ti risveglierò da 1 a 10 e a ciascun numero sarai sempre più presente e sveglio con il pieno controllo del tuo corpo e della tua mente sentendoti meravigliosamente bene sentendoti rinvigorito, rilassato e rigenerato da un'energia meravigliosa. 1 2 3 ti stai gradualmente risvegliando e ti senti benissimo 4 5 6 sei sempre più sveglio e presente ti senti meravigliosamente 7 8 sei quasi di tutto sveglio 9 10 fai un profondo respiro e dolcemente apri gli occhi stirati se lo desideri provi una meravigliosa sensazione di calma pace salute e benessere 10 ti senti meravigliosamente bene e al sicuro nel tuo corpo sei pronto proseguire la giornata e la tua vita in pace sereno in salute con te stesso presto 10 Grazie a tutti.